L'Olimpica basket torna all'assuccesso nell'undicesima di ritorno della Serie C Silver in una crucella e sfida salvezza contro un Antalos Rubo che per almeno due quarti di gara regge il confronto. Ma Moresi e Samuelovic sono in serata di grazia e regalano al popolo giallo-blu una pesante vittoria in chiave salvezza che può rivelarsi fondamentale nell'ottica di una finale di stagione regolare ancora tutto da scrivere. I ruvesi hanno un'ottima partenza e puntano sull'aggressività per cercare di tenere testa i padroni di casa che con Buono e Moresi serrano le pila della partita. L'unica preoccupazione è quella di non reagire per l'intero incontro ma questa volta a differenza della sfida di Ostoni i giallo-blu mantengono saldi il ritmo partita puntando molto sulla solidità in attacco e difendere energicamente l'assalto degli avversari. Successo è ampiamente meritato ed ora è settimana di allenamento per preparare la difficile trasferta di Nardò vincente a Martina Branca. Mimmo Siena, Speciale News dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.